Benvenuto su Sport Science. In questa sessione ti parlerò di ormoni tiroidei, metabolismo basale e alimentazione. Sono Donatella Polvara, esperta in alimentazione in ambiente estremo e nutrizione olistica. Welcome to SportsScience.com, sponsored by ATS. La differenza che la tiroide ha sul nostro organismo e su tutti gli organi del nostro corpo e come l'alimentazione può influenzare il metabolismo basale, come può influenzare la funzione tiroidea e quindi il fatto di stare bene oppure no. Affronteremo anche le problematiche legate alle patologie della tiroide come sistema immunitario, quindi problematiche autoimmuni di ipotiroidismo, di ipertiroidismo e vedremo anche come l'alimentazione può aiutarti a stare meglio anche se hai delle patologie correlate alla tiroide. Innanzitutto bisogna fare chiarezza sul metabolismo basale. Il metabolismo basale è la quantità di energia impiegata dal corpo in condizioni di riposo. Viene influenzato dalla temperatura esterna, dalla temperatura corporea, dall'età, dal sesso, da patologie concomitanti e dalla massa muscolare. Chi ha più massa muscolare ha un metabolismo basale un po' più alto rispetto a chi ha una massa muscolare inferiore. Gli ormoni tiroidei influenzano importantemente il metabolismo basale, ma influenzano sostanzialmente anche altri canali, che sono i processi glicemici, la termoregolazione, la lipolisi, la lipogenesi, la sintesi di proteine. Influenzano in modo importante il sistema cardiocircolatorio e anche la motilità intestinale. Una tiroide sana è fonte di energia vitale per tutto l'organismo. Ci fa stare bene, ci fa sentire in forma, ci fa sentire energici e ci permette anche una concentrazione mirata su quello che dobbiamo fare durante la giornata. Quindi come possiamo aiutare il nostro tiroide a stare bene con l'alimentazione? È possibile tutto ciò? Sì, è possibile. La tiroide è una ghiandola di piccole dimensioni localizzata nella parte anteriore del collo, tra la laringe e la trachea. Svolge una funzione fondamentale nel nostro organismo, quello di regolare tutti gli organi. Attenzione, tutti, dalla vista all'intestino, alla digestione, ai processi metabolici legati al pancreas, legati al fegato, ai reni, tutto. La tiroide controlla tutto il nostro organismo, nonostante sia una ghiandola di piccolissime dimensioni localizzata a livello della trachea. Gli ormoni che produce, infatti, chiamati ormoni tiroidei, sono necessari per la regolazione dei principali metabolismi, dalla temperatura corporea, come abbiamo detto, e dalla forza muscolare. Una sua alterazione ha conseguenze negative e significative sulla qualità della vita quotidiana. Quindi, attenzione, vedremo più avanti quali sono i campanelli di allarme che ci dicono che la tiroide sta funzionando in modo non corretto. Allora, vedremo come fare degli accertamenti mirati per valutare il nostro stato di salute tiroideo. Le cause delle alterazioni della tiroide possono essere numerose, ma le più frequenti, oltre a quelle genetiche, sono l'ipertiroidismo, l'ipotiroidismo, patologie legate all'autoimmunità. E per proteggere la salute di questa preziosa ghiandola è fondamentale seguire, oltre alle indicazioni mediche e farmacologiche del caso, una sana ed equilibrata alimentazione. Quindi, innanzitutto, in una persona che non ha patologie tiroidee, ma vuole mantenere uno stato di salute della propria tiroide, deve seguire una corretta alimentazione. Ed ora vedremo più nel dettaglio quali sono gli alimenti che aiutano al buon funzionamento della tiroide.